crono scalata luzzi sambucina sì crono scalata luzzi sambucina no non passano 5 minuti che qualcuno di voi mi mandi un messaggio su qualsiasi piattaforma nella quale sono presente che mi faccia sta domanda ragazzi io spero di sì vivamente perché l'ultimo atto del cvm 2020 funestato da questo maledettissimo virus spero che si riesca a fare si concluda la situazione molto 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 particolare perché c'è da spostare gente da zone gialle a zone rosse a zone arancioni a zone verdi non ci sto a capire più una mazza manco io quindi il problema fondamentale secondo me è quello come ci si sposta ci si può spostare come ci si deve spostare che tipo di documentazioni servono per poterci si spostare soprattutto chi di dovere darà il sabato mattina l'autorizzazione a partire costa gara ovviamente spero vivamente di sì i ragazzi di luzzi si stanno a fa un mazzo tanto da un mese due mesi non lo so manco io gliene è venuto fuori purtroppo la volaccia una cosa allucinante io non vorrei assolutamente essere nei loro panni niente ragazzi la storia è questa vi rivedo io ovviamente spero che si faccia sta manifestazione perché ci tengo tantissimo è una manifestazione praticamente come se fosse di casa perché siamo molto vicini e il problema è cercare di capire un attimo com'è la storia questa sera dopo le 21 e 30 sul mio canale youtube sarò in diretta per fare una chiacchieratina insieme a voi per quanto riguarda questa storia e cercare di capirci qualcosina ci becchiamo questa sera dopo le 21 e 30 sul mio canale youtube a voi per quanto riguarda questa storia di capirci qualcosina ci becchiamo questa storia di